Assessore Pepe, allora ottava edizione di Tratturo Magno, un'importante manifestazione del comparto agricolo? Sì, un'importante manifestazione non solo dal punto di vista agricolo, ma anche e soprattutto dal punto di vista promozionale, turistico. 244 km dall'Abruzzo alle Puglie per condividere con tanti comuni, tante tappe che attraverseremo, per condividere i prodotti tipici, la promozione turistica, la promozione dei nostri territori, della nostra natura. Una riscoperta assolutamente importante di tanti giacimenti enogastronomici e turistici ambientali del nostro territorio. Questi giorni state anche predisponendo il piano rurale per i prossimi anni? Siamo alle ultime battute per la predisposizione della bozza definitiva del piano di sviluppo rurale, poi ci confronteremo con i portatori di interesse nel mese di ottobre per presentarlo definitivamente alla Commissione europea. Sessore, notizia di queste ultime ore, lo stanziamento da parte della regione di 520 mila euro per alcuni enti di ricerca importanti della nostra regione, tra cui anche il Cotir di Vasto. Con grandi difficoltà abbiamo recuperato dal bilancio regionale 520 mila euro per i centri di ricerca del settore agricolo, Cotir, Crabbe e Crivea. Stiamo predisponendo gli atti per regolare i fondi e per fare in modo che questi centri di ricerca non possano tornare a una serenità sostanziale. Siamo in piena vendemmia, le prime notizie cosa dicono? Che vendemmia sarà questa del 2014? Una vendemmia positiva anche se quest'anno purtroppo è mancato un po' il sole.